Good morning! How are you? May I have a place to store hamburgers? Eh? Hamburgers! Polpets! Ah, è polpette! Polpets! Polpets! Scusi, ma lei parla inglese? Of course! Io vengo da Australia! Ma davvero! Pure questa viene dall'Australia! Ma va! Senta, non è che me la potrebbe tradurre! Io non ce capisco niente! A very big pleasure! Eh, eh, eh! Allora... There were... Well... Oh, kill! What bottom! Che dici, eh? Kill, ammazza! What bottom! Che culo! Tu hai ereditato one million dollar, un milione di dollari! Io? Sì! Look here! Questa lettera viene da Notaio, Sir Wilkinson, Sydney, Australia! E di chi ha ereditato? Eh, look here! E che parlare? Da Rinaldi Tom, figlio naturale di Rinaldi Otello, tre chili di drifo e due di buballo! Ma mi padre! Che lo? Your daddy! Your daddy! It's incredible! Che bella vecchia da manzodini! A manzodini! Come manzodini? Eh... Men... Da inglese... Men... Zotini! Men uomo! Zotin da verbo to zot! Ha ha! Zoteri! Come dite in italiano? Zoteri! Papà grande zottatore! Eh! Castigato ragazzo australiano e ha fatto frittata! E mo che devo fa' per piarsi i sordi? Chiamo subito il studio notario Wilkinson, Sydney! Guarda! Look at the number! Chiamo subito lui! Le chiamo subito si? Senti! Non sbagliare il numero, guarda bene! Allora, prefisso Australia 0061, numero di telefono 49722681 Ehm... Ehm... Nombre di cellulare australiano, eh! Pronto? Qui in Roma, Italia! Parla, Rinaldi e Marcello! Posso parlare, Cornodaglio Wilkinson? Oh, sì! 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 Oh, boy! Oh, boy! Oh, boy! Oh, boy! Scusi, signor? Pomato! Come? Tomato! Signor Pomato, scusi! Ci parli lei perché io non capisco niente! Ok, ok! Allo! How are you, Old Sola? Yes! I'm a friend of Mr. Rinaldi e Marcello! Tell me! Tell me! Ci sta a cascare! Yes! Ammazza che coglione! Very, very, very coglione! Coglione del padre, coglione del figlio! Procede tutto alla grande! Brava! Sei stata bravissima! Sì! Ma ricordate che se la sola riesce, me dovete pagare l'abbonamento a centi rimagranti sobrino! E tocca via mutuo! Sì! 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 Fai scrivere! Sì! 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 Notario Magalini! Allora! M-A-G-I-L-A-L-A-M-A! Vittorio Colonna 1! Colonna 1! Ok! Ok! Bye bye! Thank you very much! Thank you very much! It's ok! Bye bye! Allora! Che ha detto? Ha detto che se tu vuoi avere il tuo milione di dollari, ti devi mettere in contatto con Notario... Come ha scritto qua? M-A-G-I-L-A-M-A-G-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A! E poi ti arrivano i dollari! Non ci posso credere! Mi pare in sogno! Vedrai quando ti svegli! Bye!